Eccoci qua Giusy, dicembre è arrivato, dicembre 2023 e siamo nel mese di Natale, quindi tanti auguri da Giusy Biondelli e Maurizio Polli, educatori e consulenti finanziari, ma un 2023 Giusy ci saremo? Sì certo ci saremo, saremo al fianco dei nostri clienti, delle nostre aziende, dei nostri imprenditori. Chiaramente il 2022 è volato, ma è stato un anno veramente molto complesso, faticoso, però ce l'abbiamo fatta, siamo a Natale, innanzitutto buon Natale a tutti e sicuramente potremo essere a fianco ancora anche nel 2023, quindi tanti auguri di buon Natale e di buon nuovo anno. Quindi noi ci saremo, l'educazione finanziaria continua con Giusy Biondelli e Maurizio Polli, ricordando sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani, buon Natale e buon 2023. Tanti auguri. Grazie.